Questa è stata una delle novità di questa edizione e c'è stato un po' un dibattito con gli artisti se aprire al pubblico a sculture terminate oppure durante l'esecuzione. Loro ci hanno detto che per la loro esperienza questa è una fase anche molto interessante, molto divertente e quindi siamo qui a dare un po' di apertura ai nostri cittadini. Siamo alle spalle del nostro splendido solarium di Santa Teresa, quindi credo che si possa fare una bella sinergia. Speriamo che i visitatori abbiano troppo gusto e siano soddisfatti di questa esperienza. Penso che soprattutto i bambini siano entusiasti, abbiamo già visto qualche visitatore che ha sbirciato in questi giorni, nei giorni scorsi, soprattutto bambini, famiglie, sarà una bella esperienza.